Miei carissimi followers, bentornati nel canale, spero stiate bene. Per chi già conosce me e la mia agenzia New York City for All, sa benissimo che siamo specializzati in tour personalizzati, oltre a vlog e tantissime foto su Instagram, dove diamo i migliori consigli su New York. Mi è venuta voglia di mostrarvi quello che sono riuscita ad organizzare per il gruppo di 10 persone che ho avuto due settimane fa. Siamo passati da giri gratuiti in bici a Governors Island. Oggi è giornata bici! Governors Island in bici! Free bike per an hour! Hey guys! Ciao! Com'è questo giri in bici? In una soleggiata mattina di maggio, a tour in un giardino di un tetto di Brooklyn, dove coltivano prodotti locali. A installazioni di David Bowie nella fermata Broadway Lafayette Soho. Allora, sto obbligando tutti a venire a fare i selfie con me nelle scale antincendio. Sono la sua zia, eh! Non è vero! No, sì sì, è vero! Lei! Sono di Materica! No, di... Vamos alla playa! Oh oh oh! Woo! Siamo nel terrazzo, al settimo piano di WeWork. Thank you, Billy! Cioè, addirittura l'applauso! Ma che gruppo c'è? Eee! Andate, mi ci metto anch'io. Così sanno che salio. Ci siamo decisamente divertiti tantissimo e la cosa sempre per me più importante è la conoscenza, oltre al servizio che offro, ma appunto l'esplorazione con persone nuove e la conoscenza di persone nuove, che arricchisce sempre di più noi stessi e ci fa scoprire magari parti di noi che non conosciamo. Io adoro ascoltare storie, soprattutto di sconosciuti, perché penso che ognuno di noi ha una storia diversa da raccontare. Spero di conoscervi in tantissimi presso a New York per esplorare la grande mela come piace a voi. Bye, Chiari Lady Boss, Miss New York City for All!